good morning si in realtà qui adesso sono tre meno un quarto quindi già pomeriggio poi mi sono svegliato un po' tardi prima quindi non ho fatto il report proprio di anche se mattina tarda o comunque di mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's april 23 2022 and it's a saturday in naples a middle afternoon not very still right now a 64 and 45 and at 18 celsius and this means that it's that today really 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 soft like in these days in this period and perhaps also more because it seems more as a slightly summer climate than spring climate but in my view comunque in general it's a spring climate as a regard to the video tools as always i do it separate from this quindi if you are interested high because it's out of this anyway as he and you all just see from the window i think that ormai se no già pomeriggio proseguiremo con questa temperatura qui so 18 celsius 64 and 4 fahrenheit but i think appunto anche l'atmosfera the atmosphere will be the same fino until this evening ma potrebbe anche peggiorare però non credo se anzi speriamo si mantenga in questo modo comunque e comunque speriamo che domani ci siano proprio those beautiful blue skies in golden sunshine perché in realtà non ci sono sono c'è un sole un leggero un cielo appunto non proprio un proprio azzurro abbastanza velato non so se si vedeva bene it's veiled the sky e quindi noi abbiamo proprio those beautiful blue skies in golden sunshine però speriamo di averli domani per cui quindi said this so from the mythical window with the orange red blue green water curtain and it's green roller shooter behind me on the top not visible in factor in the shot and finally from the mythical keyboard amatic x 640 ipg 625 e grazie dei molto pivoli follow the channel and the reports si un saluto davvero a tutti and I hope also that you'll have a great breakfast purtroppo io già l'ho fatta sono già pomeriggio e comunque che il vostro stomaco brontola e che abbiate molta fame soprattutto che vi consigliate se il tempo è brutto alle vostre parti si per cui ci vediamo al videotuts nel caso lo faccio a domani see you tomorrow